Ciao a tutti ragazzi, allora da come potete capire dal mio background dietro? Sono tornato in Italia, questa è camera mia di Milano Scusate per le risate di sottofondo, dopo capirete Sono tornato in Italia, non posso io fare il video con te, mi fai... Ciao a tutti ragazzi, allora sono nella mia camera in Inghilterra Ciao a tutti ragazzi, allora benvenuti in un nuovo video Da come starete capendo adesso che non sono nella mia camera in Inghilterra Sono a Milano e sono tornato in Italia Tu sei uno stronzo comunque Ciao a tutti ragazzi, allora benvenuti in un nuovo video del mio canale Allora di chi voi già mi segue starete già capendo che il mio background dietro è cambiato Non sono in Inghilterra ma sono in Italia, casa mia a Milano Allora vi spiego in pillole perché sono tornato Io settimana scorsa sono stato molto male, non posso io Ciao a tutti ragazzi, allora benvenuti in un nuovo video del mio canale Chi di voi già mi segue Adesso sto bene e sono, devo stare due settimane I verbi sono tutti sbagliati Mi presento Alessandro vieni Alessandro vieni Davvero? Sì vieni Sto carichendo davvero Allora lui vieni Dai Pausa Pausa Nooo Allora come ho detto sono qua come cugino Però sto ripetendo perché lo facciamo una cosa Una cosa diretta Adesso continuiamo a filmare e poi tagliamo Sennò starò ogni volta a stoppare Sì 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 E' una pizza margherita E includiamo anche legger Allora diciamo che Vai Esempio Questo non vuol dire nulla però Vuol dire un cazzo Tagliamo Non dire che ho sotto inglese All'attanto la tagliamo Diciamo che ho sotto Matematica con più di puttana Non ce l'ho sotto Sono dei due a molta esperienza sul Dai 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 Andava bene Serietà 1,2,3 Iventi che sarebbero stati presi in Inghilterra Sarebbero stati gli stessi Stop